Cilento, Salerno. Alvia la seconda edizione del Premio Artistico Letterario L'Identità del Cilento, destinato ai giovani del Cilento. Il concorso premio, organizzato dall'Associazione Storico-Culturale Progetto Centola e dal gruppo Mingardo, Lambro, Cultura, in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Vallo della Lucania, si avvale del patrocinio morale del Consiglio regionale della Regione Campania, della provincia di Salerno, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Per informazioni telefonare al 389-5813-347 oppure scrivere al